a tutti ringrazio la fondazione Spadolini Nuova Antologia per questo invito mi chiamo Antonella Giacchetti e sono presidente nazionale dell'associazione AIDA che è un'associazione che ha sessanta anni di storia è nata a Torino nel millenovecentosessantuno da donne che hanno avuto una grande visione perché considerati i tempi sessanta anni fa avevano già una visione della dell' l'importanza del ruolo che può dare le 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 donne i loro valori nella società e nacque per valorizzare l'imprenditoria femminile e per creare una rete fra le donne che in quel periodo erano veramente poche che lavoravano. La nostra associazione la gruppa seicento circa ottocento persone con un fattorato globale a livello italiano sui tredici miliardi e mezzo e circa trentasei mila addetti ed è ha una caratteristica di trasversalità è trasversale sia da un punto di vista merceologico che da un punto di vista dimensionale abbiamo sia grandi aziende ma anche piccole aziende e e in tutti i settori il turismo l'industria eh le costruzioni e tutto quello che la sanità eh diciamo che eh io sono diventata presidente nel novembre del duemilaventi nel mezzo della pandemia e è stata un Aida come ha reagito all'inizio infatti abbiamo rimandato le elezioni che dovevano essere nel nel maggio del duemilaventi fino al novembre proprio perché non quando è arrivata siamo rimaste tutte molto eh dovevamo abituarci anche a questi nuovi mezzi di comunicazione e di interazione che sono le piattaforme al nel marzo duemilaventi l'uso di una piattaforma era totalmente all'avanguardia e Aida eh come ha capito abbiamo cominciato a fare i primi consigli nazionali in piattaforma già dal dal marzo e le socie hanno sentito tantissimo al desiderio di collegarsi su tavoli di merceologici diversi per rispondere alle proprie ansie alle proprie domande a per scambiare idee per scambiare emozioni per scambiare problematiche e così si è avviato il tavolo del turismo il tavolo dell'industria e poi dopo il tavolo delle costruzioni l'agricoltura e la sanità la sanità è venuto per ultimo è stato a fine anno e duemilaventi è stato un momento di risveglio anche del 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 pathos all'interno dell'associazione perché eh quanto la pandemia allontanava le persone in realtà è un'associazione che eh è italiana a tredici delegazioni ha fatto ha avuto un effetto di eh collegamento perché eh ci si poteva vedere tutte insieme dalla Sicilia al Piemonte e altre friuli Venezia Giulia ed è stato è stato è stato bello abbiamo veramente eh eh tentato di dare una risposta una reazione eh emotiva e psicologica importante e questo io voglio dire una roba si è parlato molto mh coloro che hanno pagato del fatto che coloro che hanno pagato il maggior prezzo dalla dalla pandemia è sta sono state le donne io aggiungo che hanno pagato il prezzo maggiore ma sono state anche l'elemento di stabilizzazione maggiore cioè anche all'interno delle famiglie ma anche all'interno dei consigli di amministrazione spesso e volentieri erano coloro che eh tenevano la fermezza più al centro del del loro eh spettro di di azione mentre molti uomini all'inizio soprattutto eh questa cosa devastante che non si sapeva hanno avuto eh delle maggiori eh difficoltà diciamo di approccio le donne hanno pagato hanno pagato perché eh una pandemia che porta fuori la fragilità dell'essere umano la necessità di interrelazione fra gli esseri umani e di aiuto in un sistema che il valore della cura praticamente e i sistemi di cura sono sempre stati come posso dire addossati sulle spalle delle donne all'interno delle mura domestiche ha portato fuori eh evidentemente una situazione di grande eh caos di grande ehm ingolfamento le donne eh erano in prima linea negli ospedali erano in prima linea nelle case eh i bambini avevano i figli nella dad o comunque a casa eh loro si dovevano collegare per lavorare eh non c'era nessuno aiutava è stata una roba non indifferente e poi la botta economica perché evidentemente eh la rarefazione delle attività la chiusura delle attività perché nel 2020 si parla della chiusura e sta continuando anche se adesso è tutto aperto ma diciamo che in qualche modo si sente ferocemente la limitazione la riduzione dei volumi è molto difficile far quadrare un conto economico soprattutto nelle nel settore del turismo nel settore nei settori dove ci sono le piccole aziende delle donne eh non è facile perché le persone girano meno vanno meno ristorante vanno meno negli alberghi eh hanno paura e quindi eh diciamo che tutto il tessuto micro piccolo medio delle imprese soffre meno che ci sono dei settori che hanno avuto un'esplosione positiva eh per chiaramente la situa per la contingente situazione che si è verificata però diciamo le attività eh in generale hanno subito questa rarefazione che all'inizio è stata proprio una chiusura ma adesso c'è continuo a esserci una rarefazione e molti mi dicono è quasi peggio adesso dell'inizio perché nell'inizio in qualche modo si reagiva finirà adesso è come non 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 vedere la fine di un tunnel in tutto questo le donne di Aida hanno reagito positivamente si tratta di aziende che erano comunque già abbastanza strutturate di persone che avevano un'esperienza pluriennale nel lavoro infatti i dati di non camere sulle preditoria femminile riportavano situazioni eh veramente eh pesanti su tutto quello che era l'avvio di nuove imprese femminili sulla capacità di accesso al credito di sulla capacità di reperimento delle materie prime delle imprese femminili cioè tutto quello che era in in avvio e in corso di costruzione ha avuto dei colpi veramente forti le noi abbiamo anche attraverso la nostra socia toscana raccolto le esperienze di molte associate e in un piccolo libro che ehm porta un nome molto molto carino Aida batte covid perché ha eh la nostra socia Orietta Malvisi Moretti ha raccolto le testimonianze un po' in tutta Italia e chi si è messo a cambiare business chi è integrato il business chi ha fatto una roba chi ne ha fatto un altro insomma ci sono esperienze veramente ehm diverse e di grande reattività ecco hanno dimostrato quello che viene chiamato ormai in maniera quasi infrattiva la resilienza la creatività la capacità di rispondere alle difficoltà unendosi anche i nostri tavoli sono stati un esempio di unione no? Perché tutte quelle di un settore si mettevano lì ma facevano incontri lunghissimi su Zoom nessuno poteva far niente non si poteva andare sulla parte ora a parlare di tutti i problemi e e condivisione e quindi alleggerimento del del tema anche psichico delle delle della persona che dire ehm questo è stato un po' Aida ai tempi del covid e quello che Aida ha vissuto ehm l'anno scorso eh siamo state host organization del W20 che è l'engagement group per le donne del G20 sotto presidenza italiana e e e lì abbiamo proprio portato questa istanza dell'importanza di sviluppare aziende femminili perché naturalmente le donne sono portatrici di valori di sostenibilità sociale ambientale economica perché hanno il tratto e il valore della cura dentro il loro DNA e quindi come si muovono eh l'azienda sicuramente è per conseguire un profitto ma ne sicuramente mediato con il bene comune del territorio e delle stakeholders a cui si riferisce e quindi l'abbiamo promosso e in questo abbiamo anche lavorato per cercare di sottolineare l'importanza dello sviluppo delle aree interne dei borghi dei territori che caratterizzano un'Italia bellissima ma un'Italia fatta di piccole iniziative turistiche artigianali culturali eh paesaggistiche perché il vero tema che in questo momento il vero pericolo che in questo momento ci presenta al di là della fine della pandemia che si spera che arrivi presto sono le sfide che avete sentito emergono in in maniera forte ehm anche direi improvvisa eh forse si poteva prevedere ma non così che sono l'aumento dei prezzi delle commodities energetiche e la rarefazione e l'aumento dei prezzi delle materie prime eh la difficoltà dei noli dei degli attracchi della logistica tutto questo affonda le sue radici non in un fenomeno unico ma in una serie di concause che noi riteniamo di individuare nel contracolpo post pandemico nella necessità di una transizione ecologica e e ambientale che ormai è sempre più imminente e pressante e in tra i anche problemi geopolitici perché ci sono anche quelli e in questo meccanismo di trasformazione violenta di tutti i mercati perché la pandemia sicuramente ha inferto dei grossi colpi alla globalizzazione ne ha mostrato i grandi limiti e ancora non si è messo in atto dei meccanismi di eh ammortamento di questi di questi limiti come ad esempio diventare più autonomi nel riportare alcune produzioni a un certo punto l'anno scorso è venuto sul sole 24 ore non è una roba è eh manca il magnesio perché la Cina ha bloccato la produzione di magnesio perché l'ha bloccata perché è una produzione energivora in questo momento il loro piano piano pianificazione non comprende questa questo tipo di attività cioè il leve limitarlo e allora viene sorge spontanea la domanda ma perché noi non ce lo possiamo fare il magnesio no eh nel duemila uno l'Italia aveva a delle aveva eh deciso di non produrlo più e acquistarlo dalla Cina queste sono cose che possono succedere meccanismi di un mercato finalizzato esclusivamente al profitto immediato senza una visione a medio lungo termine per ritornare a una visione a medio e lungo termine e mettere a posto un po' le cose ci vogliono dei tempi lunghi in questi tempi lunghi che ne sarà delle micro piccole medie imprese italiane perché il pericolo di un grosso shopping da parte di grandi player del mercato è reale se voi pensiate che negli ultimi sessant'anni la ricchezza è passata dall'essere la ricchezza degli stati alla ricchezza delle grosse company delle big company internazionali che fanno fatturati maggiori dei field dei paesi in alcuni casi voi capite bene che il meccanismo di essere di poter essere fagocitati può diventare reale riteniamo invece che come abbiamo sempre sostenuto l'importanza per la prosperità il benessere di un territorio quello della vitalità del suo tessuto di piccole di micro imprese e la caratteristiche dei propri territori che non sono acquistabili o esportabili sono caratteristiche artigianali a tutti i livelli dal food alla produzione eccetera eccetera e questa è una cosa importante io non dico non ci deve essere il grande ci deve essere il grande ma ci deve essere anche il piccolo il piccolo può morire come in un laco essiccato perché il grande compra quello che c'è da comprare il resto lo distrutte questo è un tema che avremo nel prossimo futuro in questo momento si spera di trovare delle soluzioni vediamo che il governo in qualche modo sta facendo degli sforzi per abbassare il costo delle bollette energetiche eccetera ma per quanto tempo e per quanti soggetti questa cosa sarà possibile e quindi diamo comunque un segno di positività a quello che diciamo noi speriamo che le donne se riusciranno come nella nostra campagna di sensibilizzazione che abbiamo avviato abbiamo detto la la campagna di sensibilizzazione per una donna al quirinale se riusciranno il maggior numero di portatori di valorialità femminile a interagire nelle decisioni abbiamo delle grosse possibilità di farcela ma devono entrare i valori femminili la leadership del futuro ha necessità di valorialità femminile non ne faccio un discorso di uomini e donne però le donne in questo momento aiutano a portarli le donne devono lavorare con gli uomini e dobbiamo lavorare insieme come creiamo la vita creiamo tutto il resto però non si può avere nei criteri decisionali soprattutto di un paese soltanto valorialità maschile e tutte quelle problematiche di cui ho parlato che è la cura la prosperità dei territori il rispetto dell'artaginialità e delle differenze di solito è eh materia di protezione da parte dei valori femminili non da parte dei valori maschili grazie a tutti grazie a tutti